Una tipologia di personaggio che ricorre spesso nella narrativa contemporanea è quella del ladro acrobata, un personaggio che compare non solo nei thriller, nelle opere d'azione e d'avventura, ma anche nei fantasy ad ambientazione di stampo medievale, come lo sono gli infiniti cloni del Signore degli Anelli. Perché in una compagnia di personaggi, ciascuno dotato di determinati poteri e abilità, si trova spesso anche quel personaggio furtivo, abilissimo nella scalata, nell'arrampicata, nell'intruffolarsi e spesso anche un po' truffaldino. Tutti elementi già presenti nelle cronache, nei resoconti storici medievali, a partire dalla variante più celebre di questa tipologia di personaggio, conosciuta da tutti, che è quella dell'assassino. Il mito dell'assassino comincia a diffondersi in occidente dal XII secolo per indicare alcuni saraceni che nel loro dialetto si chiamavano assassini, come viene specificato nella cronaca di Arnoldo di Lubecca. Quel che sappiamo sul loro conto non è molto, ed è inquinato da antiche leggende arabe, a loro volta reinterpretate dai cristiani, come avviene nel Milione di Marco Polo, dove si narra di Alamut, il nido dell'Aquila, la leggendaria fortezza dell'ordine degli assassini, situata a quasi duemila metri d'altezza. Fra le antiche mura di pietra, il Veglio della Montagna praticava la sua dottrina, istruiva i seguaci e conferiva loro incarichi pericolosi. L'assassinio dei più eminenti membri della società dell'epoca, per scopi politici e militari. Tali incarichi venivano svolti tramite l'utilizzo di travestimenti e stratagemmi, proprio come ci si aspetterebbe in un film o in un videogioco della serie Assassin's Creed. Una storia, quella dell'ordine degli assassini, che approfondisco in un episodio di leggende affilate dedicato, che consiglio assolutamente di recuperare. Oggi invece voglio concentrarmi sulla nostra storia, perché di ladri acrobati si fa menzione anche nelle cronache italiane a cominciare dalla nuova cronica di Giovanni Villani, di Metà Trecento. La cronaca che ci ha regalato la storia di un eccellentissimo ladro, italiano e più precisamente toscano, di nome Arrighetto di San Polo, abile e letale. Ma facciamo un passo indietro. Piero, detto Saccone per la sua stazza massiccia e poco aggraziata, fu il signore della casata dei Tarlati, proprietari di vari castelli sparsi per il centro Italia. Era stato nominato cavaliere dall'imperatore stesso, quindi di parte Ghibellina, e aveva mire espansionistiche verso alcune località che rivendicava come proprie, secondo vecchi privilegi. Ed è per questo che con l'aiuto dei suoi conti e degli alleati, mise in piedi un'armata composta da 400 cavalieri dell'Arcivescovo di Milano e 100 di suo sforzo. Direzione Borgo Sansepolcro, oggi chiamata semplicemente Sansepolcro, nella provincia di Arezzo, in Toscana. Il borgo a Sansepolcro, terra forte e piena di popolo e di ricchi cittadini, fornita copiosamente ad ogni bene da vivere, nella guardia dei perugini. L'obiettivo del Saccone era una città fortificata come lo erano in prevalenza molte realtà urbane dell'Italia centro-settentrionale. Terra forte, piena di popolo e di ricchi cittadini. Una condizione che giustifica la presenza di così tanti mercenari stranieri giunti nel bel paese per arraffare una fetta di ricchezze nostrane. Il borgo era presidiato da una guardia di perugini, che esercitavano una sorta di protettorato sulla città, forti di molte genti d'arme e di due casseri. Termine con cui si indicavano le fortificazioni principali e più massicce del sistema difensivo. Insomma, la presa del borgo non poteva essere definita come una passeggiata. Il Saccone, inoltre, non aveva intenzione di svernare fuori dalle mura in un lungo e logorante assedio. Voleva trovare un modo di risolvere la faccenda alla svelta e conosceva la persona giusta per farlo, tale Arrighetto di San Polo, meraviglioso ladro, acrobata. Arrighetto era conosciuto soprattutto per i suoi grandi e belli furti di bestiame, svolto in maniera così furtiva che nessuno si accorgeva mai della ruberia, se non a cose fatte. Arrighetto rompeva le barriere che tenevano rinchiusi i capi di bestiame, faceva uscire le turme dei buoi, poi con le pietre rimosse dalla barriera murava le porte dei villani, i proprietari, chiudendoli nelle loro case. Prima che i villani riuscissero a venire fuori dall'uscio sbarrato, Arrighetto se l'era già svignata, allontanandosi di due o tre miglia. Ma non era solo un ladro di vacche. Come ci racconta il villani nella sua cronaca, si trattava di un meraviglioso ladro acrobata che saliva su per gli canti delle mura e delle torri con suoi lievi argomenti, incredibilmente, e quanto che fossero alte non se ne curava. Ed era dell'altezza, maraviglioso avvisatore. Quindi, un sabato notte, Saccone chiese al ladro acrobata di scalare una torre della città assediata, una di quelle torri che proteggevano i vari ingressi di Borgo Sansepolcro. Una volta in cima, Arrighetto avrebbe dovuto aprire le porte di sotto per far passare gli attaccanti, mentre i ribelli ghibellini nascosti in città si tenevano pronti alla rivolta, pronti a uscire in strada, a dare manforte. Arrighetto, che non aveva cognome poiché un uomo semplice, proveniente da San Polo, Arrighetto accettò la missione. Si avvicinò alle mura della città e si arrampicò su per la più alta torre, al di sopra della porta d'ingresso, portando con sé una lunga corda. Una volta giunto in cima, senza esser visto grazie all'oscurità e al vento forte che copriva i rumori, piombò addosso alle due guardie che si trovavano lassù e le minacciò con un coltello. Le guardie, completamente colte alla sprovvista, si arresero senza neppure combattere. Dopodiché Arrighetto legò un capo della lunga corda attorno a un merlo della torre, la srotolò di sotto e fece salire dodici masnadieri del saccone che avevano atteso ai piedi delle mura, nell'ombra. La torre era stata conquistata. Arrighetto lanciò un segnale che non ci viene descritto nella cronaca per avvertire un campanaro ghibellino, nascosto in città, di suonare all'impazzata. La campana di una chiesa di Sansepolcro cominciò quindi a rintoccare nella notte, avvertendo i ghibellini in attesa che era il momento di entrare in azione. I rivoltosi in armi cesero in strada e si diressero alla torre conquistata dal ladro acrobata, aprendo le porte e facendo entrare il saccone con tutto il suo esercito. Il saccone quindi con i suoi cavalieri giunse in città senza colpo ferire né ruberia alcuna poiché il signore dei Tarlati non voleva guastare la terra di coloro che lo avevano aiutato. I soldati perugini si asserragliarono nelle due rocche fortificate, i casseri per tentare una difesa a oltranza ma dopo le azioni rocambolesche del ladro acrobata e la pressione armata degli uomini del saccone i difensori infine crollarono. L'intero borgo capitolò con le sue due rocche eppure nelle città vicine si sparse la voce della viltà di coloro che gli aveano in guardia. Dopo la conquista del borgo di Sansepolcro di Arrighetto di San Polo il ladro acrobata medievale non se ne seppe più niente. Chissà che non sia tornato a fare grandi e belli furti per tutta Italia oppure che si sia messo a compiere pericolose missioni al soldo di qualche signore. Di lui resta solo questa minuta ma affascinante traccia nelle cronache medievali italiane. Se questa storia ti ha appassionato seguimi perché di leggende affilate è piena la storia. Ciao. Leggende affilate gli episodi più avventurosi delle antiche cronache narrati da Lorenzo Manara. Grazie a tutti.